Perde il controllo dell'auto che decolla capovolgendosi dopo aver preso un cordolo. Lo spettacolare incidente nelle prime ore del mattino di oggi a Villorba, lungo la Pontebana, all'incrocio di Carità, in piazza Umberto I di fronte alla Villa Giovannina. Una Mazda proveniente da Treviso e diretta a Villorba ha toccato con la ruota anteriore destra il cordolo dello svincolo del semaforo e ha terminato la sua corsa a capovolta. L'automobilista, 38 anni di Ponzano, è miracolosamente rimasto in leso, riportando solo qualche contusione. È uscito da solo dall'abitacolo ed è stato soccorso dal suo M118 ed alcuni automobilisti di passaggio.